Musica E' stata la musica del pianista Andrea Trovato ad aprire la sedicesima edizione di Music Festival Terre d'Arezzo, la rassegna organizzata dall'Associazione Opera Viva con la direzione artistica dello stesso trovato. Il pianista si è esibito nel chiostro del Duomo di Sansepolcro con Refledo Luc con le musiche di Chopin, una serata in collaborazione con l'Associazione Amici della Musica di Borgo Sansepolcro. Il festival, un vero e proprio intreccio di musiche e generi, dalla classica all'organo, dal jazz a piazzolla, proseguirà poi toccando tutti e quattro gli angoli della provincia. 22, infatti, concerti in programma con i ben 10 luoghi evocativi dell'aretino. Aplausos 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 Aplausos